Pranzo in una semplice casa pugliese. Siti fatti a mano al sugo di carne con un po' di pecorino, sono ottimi. La carne accompagnata dall'insalata condita con aceto nostano e olio pugliese. Come frutta uva sciroppata e come dessert una torta alla ricotta. Senza far mancare il nostro buon vino pugliese. E' l'ottimo pane di farina gialla. Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito!